Buongiorno ragazzi e benvenuti a questa nuova lezione di storia. Oggi ci occuperemo dell'industrializzazione nell'Ottocento e della nascita del socialismo. Dalla prima metà dell'Ottocento il processo di industrializzazione che aveva avuto origine in Gran Bretagna negli ultimi decenni del Settecento si diffuse anche nel resto dell'Europa e negli Stati Uniti d'America. In Europa si verificò soprattutto in Belgio, in Olanda, in Francia e in Prussia. Per quali motivi? Perché in questi paesi erano presenti alcune condizioni favorevoli al buon funzionamento delle fabbriche. Vi era la presenza di capitali da investire per avviare le attività produttive, e il sostegno delle banche in grado di fornire ulteriori capitali. Vi era la presenza di materie prime e di fonti di energia. Erano infatti paesi ricchi di miniere di carbone e di ferro. Il carbone, bruciando, serviva per i motori a vapore, mentre il ferro serviva a costruirli. Vi era inoltre la presenza di infrastrutture, in particolare della rete ferroviaria. In Austria, in Italia e in Russia, mancavano invece le materie prime. Mancavano anche leggi adeguate a favorire gli scambi commerciali. Questo processo fu favorito anche dalle scoperte scientifiche e dalle innovazioni tecnologiche. Basta pensare alla pila. Agli inizi dell'Ottocento la scoprì Alessandro Volta. La pila fu il primo generatore di corrente elettrica della storia. Ma anche alla Dinamo, un dispositivo che trasformava il lavoro meccanico in energia elettrica. Rispetto alla pila, era un metodo meno costoso e più efficiente. Nel campo delle comunicazioni non possiamo non citare il telegrafo, uno strumento che rese più facile e veloce la trasmissione delle notizie, non solo in campo militare, ma anche economico e commerciale. E ancora i fertilizzanti chimici utilizzati in agricoltura e l'illuminazione a gas che cominciò a essere sfruttata nelle città. Lo sviluppo industriale della prima metà dell'Ottocento comportò dunque una trasformazione dell'economia e della società. Si affermò una nuova classe sociale, formata da imprenditori, commercianti, banchieri, che cominciarono a investire i capitali nelle attività industriali e commerciali. Si tratta della borghesia capitalistica, che divenne la classe dominante nei paesi industrializzati, in possesso di enormi disponibilità finanziarie, gestiva le attività economiche, ma esercitava anche una grande influenza sulla vita politica, cercando di difendere sempre i propri interessi. Se osserviamo le immagini, possiamo vedere scorci di vita borghese. Un gruppo di persone su una varca fa una gita sul Tamigi o, ancora, donne in un'elegante pasticceria sugli Champs-Élysées di Parigi. A differenza della nobiltà che guardava con sospetto alla nuova economia di fabbrica e preferiva continuare a vivere di rendita grazie alle immense proprietà terriere di cui era in possesso, la borghesia invece seppe cogliere le opportunità di arricchimento che il progresso scientifico e tecnologico metteva a disposizione. La borghesia capitalistica si riconosceva nel liberismo, una teoria secondo la quale alla base del progresso economico vi sono la libertà di impresa, cioè la libertà individuale di gestire le attività economiche, e il libero mercato, ossia il libero scambio di merci e la concorrenza tra i prodotti. In questa visione lo Stato deve dunque limitarsi solo a garantire queste libertà senza volerle controllare o impedire. L'altra grande componente della prima metà dell'Ottocento era la classe operaia, la grande massa del proletariato. Osserviamo l'immagine intitolato Il vagone di terza classe dove si ritrae proprio quest'altra faccia della società. I proletari erano i lavoratori il cui unico mezzo per sopravvivere erano le proprie braccia, il proprio lavoro e la cui unica ricchezza erano i propri figli, la loro prole. Lo sviluppo dell'industria in Europa portò con sé conseguenze che già si erano viste in Gran Bretagna. In particolare si aggravò la questione sociale dovuta al contrasto tra le ricchezze degli imprenditori e la miseria degli operai che non godevano nemmeno di diritti politici. In questo periodo però gli operai cominciarono a prendere coscienza di avere interessi comuni e opposti a quelli delle altre classi sociali più ricche come ad esempio la borghesia. Si andava formando la cosiddetta coscienza di classe del proletariato cioè la comprensione del proprio ruolo sociale e di questa consapevolezza si fece interprete nella prima metà dell'Ottocento il socialismo. Il pensiero politico socialista nacque in Gran Bretagna dove l'industrializzazione era cominciata e si diffuse poi anche negli altri paesi europei. Si affermava la necessità di una società più giusta fondata sulla solidarietà e sull'uguaglianza sociale. Occorreva dunque una nuova organizzazione economica capace di garantire una più equa distribuzione della ricchezza. Osserva attentamente questo famoso dipinto. Il pittore italiano è Giuseppe Pellizza. Il dipinto è del 1901 ed è intitolato Il quarto stato. Che cosa rappresenta? Prova a rispondere sul tuo quaderno. A chi si riferisce l'espressione il quarto stato? Per rispondere prova a ricordare quanto hai studiato a proposito della società francese all'epoca della rivoluzione. Quale questione sociale viene posta all'attenzione? Prova a discuterne con i tuoi compagni. All'interno del movimento socialista a metà dell'Ottocento cominciarono a circolare le idee di due pensatori tedeschi Marx e Engel espresse nel manifesto del partito comunista del 1848. La loro teoria affermava che per garantire l'uguaglianza tra i cittadini e una società più giusta bisognava abolire la proprietà privata. L'unico proprietario di terre e fabbriche doveva essere lo Stato. Il socialismo di Marx e di Engel fu poi detto marxismo. Essi ritenevano che la proprietà privata è all'origine di ogni conflitto sociale in quanto le classi più ricche dominano coloro che non possiedono nulla i proletari. La storia dunque ma anche l'economia è dominata dalla lotta di classe. Secondo questi pensatori occorre allora giungere una società senza classi in cui i mezzi di produzione siano non più nelle mani di un ristretto gruppo di borghesi ma dello Stato quindi del popolo. Essi sostenevano che il proletariato avrebbe dovuto assumere la guida della società ma questo progetto molto ambizioso non poteva realizzarsi in maniera pacifica poteva solo avvenire attraverso una rivoluzione. Gli operai di tutto il mondo avrebbero dovuto unirsi in una lotta di classe sconfiggere la borghesia capitalista le istituzioni dello Stato liberale prendere il potere politico grazie a una dittatura del proletariato. Queste teorie rappresentarono per molti il sogno di un futuro migliore e si diffusero ben presto in tutta l'Europa. Arrivederci ragazzi non dimenticate il like a presto vi aspetto alla prossima lezione